Mr. Darcy era davvero così ricco? In orgoglio e pregiudizio, Jane Austen ci dice che il leggendario Mr. Darcy aveva una rendita annuale di 10.000 sterline. Ma quant'era davvero? Era tanto? Era poco? Beh, ti svelo il trucco per scoprire il valore attuale di questo importo, ma anche di tutti gli altri che vedi citati nei romanzi ottocenteschi. Ti basta andare sul sito della Banca d'Inghilterra, sezione Inflation Calculator, devi digitare l'importo e l'anno e voilà, troverai il valore corrispondente in sterline odierne. Quindi adesso sappiamo che oggi Darcy avrebbe ricevuto una somma pari a oltre 640.000 sterline l'anno, che sarebbero più o meno 730.000 euro. Insomma, bello, affascinante e sì, anche ricco, avresti esitato a sposarlo?